ciao a tutti da vittorio benvenuti sul mio canale questo video lo volevo fare stamattina ma poi ovviamente è uscito in serata di domenica il comunicato degli ultras lazio e ho dovuto cambiare un po le cose le carte in tavola perché una delle domande che mi avete fatto in questi giorni da praticamente venerdì e ok vittorio c'è stata questa manifestazione tanti tifosi sono scesi in piazza ma cosa ci aspettiamo che l'ottito dopo questa manifestazione venda la lazio veramente obiettivamente no sarei uno stolto a pensare che l'ottito dopo 20 anni di protesta eccetera basta una manifestazione corposa è perché si parla di 15.000 tifosi che venerdì hanno deciso di manifestare potevano tranquillamente uscire fare aperitivo eccetera e invece si sono presentate alla curva nord dello stadio flaminio chiaro riferimento al progetto flaminio che sembra non sia mai il giorno della presentazione chissà quando mai lo presenterà per manifestare il proprio dissenso ovvio non è la prima volta che viene criticato l'ottito non credo che dopo una manifestazione del genere l'ottito deciderà di vendere la lazio del resto il suo commento il giorno dopo è stato abbastanza eloquente da questo punto di vista e quindi perché ho manifestato beh ho manifestato per tre motivi il primo il principale è manifestare il mio dissenso la mia delusione per questa gestione della lazio l'ho detto in tanti video la lazio sembra gestita come una trattoria l'unico problema è che la lazio è una società quotata in borsa è una società internazionale che gioca a champions league non può essere gestita come una trattoria qualsiasi deve essere gestita in modo professionale in modo serio in modo responsabile l'inter la juve il milan la stessa roma hanno dirigenti hanno tanti esperti che lavorano nel proprio settore per cercare di fare il massimo il meglio possibile la lazio ha sostanzialmente l'ottito che decide tutto e fa tutto è evidente che questa non può essere una soluzione accettabile nel 2024 negli anni 70 era un altro discorso ma nel 2024 una gestione del genere non va bene non solo ma in questi vent'anni di rotito sostanzialmente la lazio è sempre rimasta quella i ricami della lazio sono cresciuti ma se li paragoniamo a quelli della juve o della fiorentina eccetera la lazio è sempre rimasta ferma e il fatto che van champions senza lo sponsor il fatto che ogni estate si è bloccato dall'indice di liquidità è un segnale che fa capire come la lazio non riesca mai a crescere non riesca mai a salire di livello e questo è sicuramente frutto di frustrazione aggiunta al fatto che in tre mesi si è riuscita a passare da sarri a baroni e quindi il punto primo era manifestare il proprio disappunto per questa gestione della lazio ovvio che nessuno di noi almeno io non mi aspettavo che lo dito dopo questa manifestazione gettasse la spugna però il secondo motivo per cui ho manifestato è che mi auguro che lo dito vedendo la gente in piazza vedendo quanti tifosi si lamentano della sua gestione faccia un passo in avanti non dico vendere perché non credo che venderà lo dito a meno che ne parleremo dopo arrivi un'offerta importante però assolutamente lo dito può crescere può migliorare quello che gli chiediamo tutti iniziamo a puntare sul marketing che la lazio fa veramente pena dal punto di vista del marketing iniziamo a comprare giocatori seri e non quello è giocatore del mio amico se prendo quello poi mi fa lo sconto su quell'altro eccetera eccetera a questo l'agente amico mio mi ha suggerito questi tre giocatori li prendiamo anche se sono scarsi ma me l'ha suggeriti lui no cerchiamo di fare un mercato serio non ti chiedo di andarmi a prendere mappe o di spendere 100 milioni di euro perché non possiamo ma magari prossima volta se la gente di milico e savage dice prendiamo kamenovic tu gli dici no grazie o mi fai un fermo firmare un contratto di minico e savage che resta a dieci anni oppure kamenovic resta dove sta perché kamenovic sono soldi buttati come sono stati soldi buttati dormisi johnny a decani eccetera in questi vent'anni la lazio ha sicuramente fatto acquisti validi ma se poi andiamo a bilanciare i minico e savage vengono annullati da dormisi johnny a decani e kamenovic e via dicendo ed è questo un altro problema la lazio con lotito ha fatto mercati mediocri non perché spinti da qualcuno ma perché non ha avuto la presunzione la voglia di crescere di andare a prendere profili più interessanti l'ultimo esempio più evidente è quello dell'anno scorso anno no lo scorso anno la lazio offerto artel dompik la lazio disse no grazie e andiamo a prendere casse jams adesso dompik è voluto da mezza europa l'atletico madrid ha offerto 40 milioni di euro sembra che lo voglia la juve eccetera cassejanos non vuole nessuno ecco immaginatevi la scorsa stagione con doppik al posto di cassejanos dove arrivava la lazio e il giocatore era stato proposto ma lotito ha detto di no per andare a prendere il giocatore di un altro suo amico ecco questo un altro problema la lazio deve fare un mercato importante io mi auguro che questa manifestazione abbia un po pungolato lotito che magari abbia detto va bene non vendo però forse posso fare meglio posso fare il mercato meglio posso migliorare il marketing posso spingere più tifosi allo stadio posso presentare il progetto allo stadio posso finalmente creare un account twitter in inglese per magari trovare sponsor internazionali insomma ci sono tanti punti dove la lazio può crescere io mi auguro che questa manifestazione abbia un po pungolato l'orgoglio di rotito che per una volta magari si sarà guardato lo specchio e ha detto ma perché questi 15 mila si lamentano ah forse dovevo fare così ecco vediamo se quest'estate il mercato i giocatori arrivano non ad agosto ma prima del ritiro di auronzo vediamo se finalmente iniziamo a crescere dal punto di vista del marketing vediamo se la campagna abbonamenti riusciamo a farla in modo decente e non un girone infernale per prendere gli abbonamenti eccetera eccetera questo è il secondo punto io spero che questa manifestazione abbia spinto lo tito a fare un passo in avanti a crescere a salire di livello questa è la mia grande speranza di questa manifestazione di questa manifestazione il terzo punto è che e ripeto è un sogno ma vedremo se si avvererà la mia speranza è che qualcuno fuori dall'ambiente Lazio abbia visto una marea di tifosi che protesta e abbia detto vedi questa è una società con tifosi appassionati se io la compro e investo tanto posso veramente cambiare le cose e trasformare un club che naviga fra il quinto settimo posto in una squadra che diventa il nuovo Manchester City è utopico ma mentre in Italia le foto delle proteste non hanno avuto grandissima visibilità sui giornali italiani all'estero invece ce l'hanno avuta molti siti internazionali hanno fatto vedere il video delle proteste dei tifosi bianco celesti e questo potrebbe speriamo attirare l'attenzione di magari un magnate un arabo uno sceicco un miliardario americano che potrebbe essere interessato finalmente a muoversi concretamente per comprare la Lazio poi protito non è obbligato a vendere però sai prima facciamo arrivare un'offerta concreta che io credo in questi vent'anni non sia mai arrivato un'offerta concreta e poi vediamo quello che combina club l'ottito però ripeto questi sono i motivi per cui ho manifestato venerdì se voi credete che basterà manifestazione per cacciare l'ottito no è troppo facile però secondo me questo è un primo passo verso un futuro diverso della Lazio ovviamente questo è il mio giudizio qual è il tuo scrivono e metti qua sotto e noi ci ritroviamo dopo un altro video grazie grazie a tutti